A poche ore dall'arrivo del 2022 si fanno sempre più insistenti le voci sui possibili movimenti di mercato in Serie A. L'Inter sta avvirando decisamente su Scamacca del Sassuolo come vice di Dzeko, mentre Lukaku non nasconde la sua voglia di ritornare a Milano. In casa Juventus prende colpo uno scambio con il Barcellona, Monata in blaugrana, Depay in bianconero, ma da Torino manifestano scetticismo sulla reale conclusione dell'affare. Intanto oggi si decide il destino della Salernitana, solo l'acquisto della società da parte di terzi può scongiurare l'esclusione del club dalla Serie A. Grazie a tutti.